Un altro incidente mortale sul lavoro in Toscana è accaduto in Casentino. L'incidente è successo pochi minuti dopo le 10 presso un'azienda di lavorazione per calcestruzzi in località La Nave nel comune di Bibbiena. L'operaio, per cause in corso di accertamento, è caduto in un frantoio per inerti ed è deceduto. Sul posto sono a corse automedica, ambulanza della misericordia di Talla, i vigi del fuoco e i carabinieri. Per l'uomo però, purtroppo, all'arrivo dei sanitari non c'era più nulla da fare. L'uomo era un addetto dell'impianto di produzione di materiali per l'edilizia. Era sposato, con figli, aveva 51 anni. È stato attivato anche il servizio PILS che si occupa della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL Toscana Sud-Est. La dinamica e le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Non tutti i lavori sono uguali, ovviamente. La battaglia che si è fatto e che si è vinto da poco per ottenere che alcuni tipi di lavoro possano essere fatti per meno tempo e che quindi dopo un certo numero di anni si possa andare in pensione un po' prima, ma proprio in questa direzione. Proprio bisognerebbe riconoscere neanche una pensione dignitosa, questo è un altro discorso, perché altrimenti le persone si fanno la fame e poi non ci vanno in pensione. Questo sicuramente è un modo per evitare che le persone si facciano male. L'altro modo, ripeto, è questo. Formazione continua, sempre, e improntata alla prevenzione soprattutto. Negli anni abbiamo visto che si tende a ridurre la contribuzione all'INAIL, quando invece la contribuzione dovrebbe essere mantenuta, ma dovrebbero essere spesi più risorse e più impegno per fare la formazione vera, quella vera. Non il foglio di carta che viene considerato un adempimento burocratico. Prevenzione, controllo dei macchinari puntuale, prevenzione con la formazione per ricordare alle persone che quello che ha fatto per cento volte, la centunesima, potrebbe non andare bene.